Gran lavoro in questi giorni nelle scuole per affrontare al meglio gli esami di maturità in astri di partenza dal prossimo 17 di giugno. La parola d'ordine è distanziamento sociale per garantire a studenti e a tutto il personale di affrontare le prove nella massima sicurezza e con i dovuti dispositivi per la protezione individuale. Ingressi e uscite diversificate, massima cura relativamente all'igiene, spazi rivisti per garantire rispetto delle linee guida del Ministero. Siamo al liceo scientifico Filolao di Crotone dove il dirigente scolastico Giovanni Aiello ci dice come si stanno organizzando. Siamo veramente a ridosso dell'inizio degli esami di Stato e ci stiamo veramente tanto dentro per cercare di essere pronti ad accogliere i nostri studenti. Innanzitutto abbiamo allestito le quattro aule che saranno sede delle varie sottocommissioni in una ala ben precisa dell'istituto. Abbiamo posizionato e stiamo posizionando i dispenser a ridosso di ogni aula, ogni singola aula e agli ingressi dell'istituto stesso. Quanti sono i maturandi? Gli studenti sono in totale circa 235, ovviamente divisi per le quattro commissioni. Ogni giorno verranno esaminati fino a un massimo di cinque candidati e abbiamo predisposto sia delle aule al piano terra e sia delle aule al primo piano. Cosa si sente di dire agli studenti che il 17 giugno torneranno a scuola per gli esami? Sicuramente in bocca al lupo. Sicuramente non avrei voluto che vivessero questo momento così difficile anche sotto il piano appuntivo e che comunque ci sarà sicuramente modo per rifarsi nella vita. Grazie. Grazie. Grazie.